Spostare le linee temporali è un'esperienza che può apparire sia esaltante che sconcertante, eppure rappresenta una profonda trasformazione nella tua vita. Quando cambi linea temporale, stai entrando in una versione alternativa della tua realtà, dove esistono diverse possibilità. Questo cambiamento si manifesta mentre prendi decisioni, sia significative che piccole, che ti conducono verso futuri alternativi. Anche se può sembrare che nulla sia cambiato in superficie, non è il cambiamento drastico dell'ambiente o delle persone nella tua vita a segnalare questo spostamento. Piuttosto, la trasformazione avviene internamente, propagandosi dalle parti più profonde della tua coscienza, alterando in modo sottile la traiettoria della tua vita. Mentre questo riallineamento interiore avviene, inizia a manifestarsi esternamente in modi che non ti potresti sempre aspettare. Desidero adesso ringraziare tutti per le lunghe e significative riflessioni lette tra i commenti, per cui vi invito a persistere perché, come è ormai risaputo, ogni video è, sempre e in concreto, una risposta. Quando cambi linea temporale, noterai cambiamenti nel modo in cui percepisci la realtà. Tutto inizia con un sottile spostamento della tua consapevolezza. Potresti svegliarti un giorno sentendo che ciò che un tempo ti affascinava non ha più lo stesso fascino. Questo cambiamento non è casuale, è la tua coscienza che si allinea con una frequenza superiore, invitandoti a liberarti degli aspetti della tua vita che non sono più in risonanza con questa nuova realtà. Le attività che una volta trovavi piacevoli possono ora sembrare faticose o prive di ispirazione. Gli hobby, le relazioni e persino i beni materiali che un tempo ti definivano possono apparire vuoti, come se appartenessero a una versione di te che hai superato. Questo distacco non è qualcosa da temere, ma un chiaro segno che hai cambiato linea temporale. Sei spinto a lasciare andare ciò che non ti serve più, creando spazio per il nuovo. Questo è il naturale flusso e riflusso della vita, una sorta di pulizia energetica primaverile, in cui l'abbandono del vecchio è necessario per accogliere il nuovo. Mentre il tuo paesaggio interiore cambia, così farà anche la tua realtà esterna. Potresti trovarti a reagire diversamente a situazioni familiari, come se osservassi la tua vita attraverso una nuova lente. Le persone intorno a te potrebbero rimanere le stesse, ma le tue risposte a loro cambieranno. Ciò che una volta ti scatenava potrebbe non avere più lo stesso effetto su di te, e le tue reazioni emotive diventeranno più allineate con la pace e l'accettazione. Questo perché non stai più operando da un luogo di paura, senso di colpa o vergogna, ma piuttosto da un luogo di amore e fiducia. Quando cambi linea temporale, il tuo sistema operativo, il modo in cui interpreti il mondo e il tuo ruolo al suo interno, cambia. Ti ritrovi a fare scelte che risuonano più profondamente con il tuo vero io, e questo cambiamento di prospettiva altera la realtà che vivi. Inizi a incarnare una versione più alta di te stesso, una che non è vittima delle circostanze, ma un partecipante attivo nella creazione della tua realtà. Questo nuovo modo di operare può sembrare estraneo all'inizio, soprattutto se sei abituato a navigare nella vita attraverso la lente della scarsità, della paura o delle limitazioni. Ad ogni modo, questo cambiamento è un chiaro segno che hai cambiato linea temporale. I modelli emotivi e i loop mentali che una volta governavano le tue decisioni, ora sembrano lontani. Non hai più bisogno di forzarti in situazioni che sembrano disallineate, perché sei passato a una versione della realtà in cui il tuo sé superiore è al comando. Questa versione superiore di te stesso prospera sull'accettazione e sulla curiosità, piuttosto che sul giudizio o sul controllo. È come se fossi entrato in uno stato più fluido ed espansivo, dove la vita non è più qualcosa da sopravvivere, ma qualcosa da vivere a pieno, con fiducia e apertura. Durante questo periodo è comune sentirsi come se si fosse in uno stato di limbo, sospesi tra la vecchia vita e la nuova realtà che non si è ancora manifestata completamente. Questa fase di transizione può sembrare disorientante, come essere intrappolati tra mondi. Potresti sentire un senso di distacco dal tuo passato, mentre allo stesso tempo il futuro appare incerto. È come se fluttuassi in uno spazio in cui le vecchie regole non si applicano più, ma le nuove non si sono ancora pienamente rivelate. Questo sentimento di limbo non è un segno di stagnazione, ma una parte essenziale del cambiamento di linea temporale. È in questo spazio di incertezza che avviene la trasformazione più profonda. Stai lasciando andare i residui energetici della tua vecchia linea temporale, mentre ti calibra alla frequenza di quella nuova. Questa fase di transizione può risultare scomoda, poiché non sei più ancorato al familiare, ma è proprio in questo disagio che avviene la crescita più profonda. Come un bruco nel suo bozzolo, stai subendo una metamorfosi, liberandoti dai vincoli del tuo vecchio io ed emergendo in una nuova versione della realtà. Durante questo periodo è importante fidarsi che, anche se le cose possono sembrare caotiche o fuori controllo, c'è un ordine sottostante che guida il processo. Non sei perso, stai venendo ricalibrato a una nuova frequenza, una che si allinea con il tuo massimo potenziale. Man mano che continui a passare attraverso questo cambiamento di linea temporale, potresti iniziare a notare sincronicità, quelle coincidenze apparentemente casuali che hanno un significato più profondo. Queste sincronicità sono segnali che indicano che sei sulla strada giusta, guidandoti verso esperienze e opportunità che risuonano con la tua nuova linea temporale. Presta attenzione a questi segni sottili, poiché sono il modo in cui l'universo comunica con te. Servono come promemoria che, anche nei momenti di dubbio, sei guidato verso il tuo bene più elevato. All'inizio questi segni possono apparire come piccoli cambiamenti nella tua routine quotidiana o opportunità inaspettate che si allineano con i tuoi desideri, ma quando abbracci pienamente il cambiamento di linea temporale, inizierai a notare cambiamenti più significativi nella tua realtà. Le persone che attrai nella tua vita, le opportunità che si presentano e persino le sfide che affronti saranno tutte in allineamento con la versione di te stesso che esiste su questa nuova linea temporale. Potresti scoprire che le tue relazioni si approfondiscono, la tua carriera prende svolte inaspettate o i tuoi obiettivi personali iniziano improvvisamente a concretizzarsi con maggiore facilità. Questo non significa che le sfide scompariranno, piuttosto il modo in cui le affronti cambierà. Su questa nuova linea temporale non sei più vincolato dalle limitazioni del tuo vecchio io. Hai cambiato realtà, dove le soluzioni arrivano più facilmente, dove la tua intuizione ti guida con maggiore chiarezza e dove le tue azioni sono allineate con un senso di scopo più profondo. Le lotte che una volta sembravano insormontabili ora appaiono come opportunità di crescita e gli ostacoli che una volta sembravano blocchi diventano trampolini di lancio verso il tuo sé più elevato. Durante questo processo è essenziale praticare la pazienza e l'autocompassione. Può sembrare disorientante a volte, ma è in definitiva un segno di crescita e allineamento con il tuo sé più elevato. Fidati del processo, abbraccia l'incertezza e sappi che ogni passo che fai ti guida verso un futuro più in armonia con il tuo vero io. In buona sostanza, il cambiamento di linea temporale rappresenta una metamorfosi potente e complessa, un viaggio che richiede coraggio e apertura. È un invito a lasciare andare vecchie versioni di noi stessi e abbracciare la nostra essenza più autentica, risuonando con un'esistenza più elevata e allineata con il nostro scopo. Questo processo, per quanto spesso sconvolgente, è il vero battito della crescita e della scoperta interiore. Se desideri continuare a esplorare simili viaggi di trasformazione e saggezza spirituale, ti invito ad iscriverti al canale per non perdere i nostri prossimi contenuti ricchi di valore e di ispirazione. Che tu possa, nella tua evoluzione, affrontare ogni giorno con curiosità, amore e fiducia, interpretabile come un augurio di luce e consapevolezza lungo il cammino. E ci rivediamo presto, pronti per il prossimo risveglio spirituale.